Dovremmo essere live Dovremmo essere live Ok 15 Direi che intanto bisogna A tutti i costi Fare la daily Con Azazel Azazel Azizel Ciao Avete seguito lo streaming di Sabaku No Perfetto Io sono praticamente stata svegliata Ah Le cose belle Le cose belle Il computer non mi fa vedere la live E tu guardala da un'altra parte Mi rifiuto Sto facendo una cosa importante con il telefono Ops Non volevo disturbare la tua intimità E là sei un stronzo nell'anima Se sei stronzo nell'anima non ci si può fare niente E ieri c'è stato l'aggiornamento Dell'applicazione di Pornado Ah vedi Ecco perché Sto aggiornando Stai aggiornando Ciao 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 Allora Il concetto è vincere La daily Vincere la daily Stai facendo la daily Entri Stai da satana No da Delemb No è Delemb No è Satana e basta Deciditi No 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 Croce giù satana Basta Perché sto laggando Non stai laggando solo tu Ah ok Non laggate tutti insieme Laggate uno per volta per favore Perché se raggiamo tutti insieme Il problema è tuo Giustamente Eh sì Il problema è il suo wifi Già perché io streamo il wifi Siamo alternativi noi Non so la connessione cellulare Magari laggi meno Dubito Però Ogni tanto poi c'hai quei tre secondi In cui ti parte il lag E poi basta Eh ma quello può essere Ma quello è perché Questa piattaforma è bellissima Vorrei un HP Da te Monstro Dammi la L'hatch key va bene uguale Per fortuna che questo patto col diavolo Fa cagare Mettiamolo così Bravo Chi ti ha letto Probabilmente entreremo anche Ecco Il mio si è appena alzato E vai Nel mio si è messa Sull'angolo del letto Questa sia una richiesta Di aiuto No Vieni a letto Muove Allora bisogna fare questa stanza Perché a me interesserebbe parecchio Ma quindi che è successo Nella live di Sabacu? No niente Perché ho scoperto Che il mio canale Stava ostando Sabacu Ah sì Infatti non capivo Anche tu se mi volessi dare un tuo HP No eh Invece ho provato Veramente? Abbiamo già 11 di danno Ok È bellissima piattaforma Oggi è deciso che non mi dice Quanta gente sta guardando Ah probabilmente nessuno Quindi tranquilla È normale Ok no niente Non riusciremo a prendere Siamo in 5 Siamo in 5 Saluti a tutti e 5 Ok io ho fatto il mio dovere Grazie Z Grazie Z Prego No di cui 4 sono qua Ah quindi continui a inserirmi il quinto Sì Io spesso mi guardo Mentre live Poi c'è Rolly No Rolly Rolly Oh non posso Ma una chiave no eh Mortacci tua Oh Chiavi per noi Più bombe Credo Non ne sono convintissimo Potrebbe essere Vediamo Allora intanto andiamo qua Stans Ciao 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 Chissà se mi fai entrare nella stanza di oggetti Grazie Allora lì non ci voglio entrare Qua sì però perché Ma vaffanculo Dov'è Adesso Qua Ho fatto bene Ci ho guadagnato una bombesta Ok ok Buono buono Andiamo andiamo Abbistanza segreta Megatroll bomb Facciamo così 5 centesimi Che mi fanno voler dire Ok apro qua Perché almeno forse un cuore blu lo prendo Perfetto Andiamo giù di qua Wheel of fortune Ce la portiamo Sei vivo Tutto a posto Questo danno No lo potevo risparmiare Questo è un ottimo oggetto perché mi dà il volo che già ho Se usi la motrice che ha per tagliarlo Scusa Quello che mangia I filoni interi per lungo La void Uccide tutti Ok Perfetto Ho preso un danno Stupido Decisamente stupido Ho abbracciato una mosca fortissimo Quando mai non abbraccio le mosche? Eh lo so Ma io voglio un sacco bene le mosche Quindi Un sacco bene a tutti i mob Sì ma le mosche in particolare Armada Ce l'avevo creduto Poco ma ce l'avevo creduto Ma io posso aprirla così Sta Sì Eh sì no vabbè Dei danni però no eh Eh mio caro Pip Anche no I danni sono eccessivi Quanti HP hai? Porca puttana Veramente troppi Spara Ok E questo l'abbiamo fatta Questo l'abbiamo fatta 72% di patto Vorrei vederlo Perfetto Sì Ci parla qualche colpo Forse se sculiamo E ci evita di usare le bombe Nel 90% dei casi Perfetto Perfetto Sì Sì Il 3 Agli oggetti in tutta la stampa In tutto il piano Scusate In piano In piano Quindi Qua che c'è HP per terra Non ci interessa Qua potrebbe aver rerollato qualcosa Assolutamente no Ci prendiamo le monete E ce ne scendiamo veloci veloci Più veloci Più veloci Più veloci Boss Ok Range up E tanta roba A coda di gap E tanta roba Perfetto Si scende Veloci 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 9 minuti Death 1 Non male Se non ci perdiamo via Qua Stai cercando di fare l'achievement Uh la testa di gap 2 su 3 2 su 3 No l'achievement no Impossibile Non lo puoi fare durante una daily Però Vorrei riuscire a fare Boss rush e hash Visto che stavolta è possibile Humble in bundle Anche si La bomba la usiamo Però Aspetta un attimo Ok ci piace Ci piace anche questo Perché è un cuore nero Perfetto Correre 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 Abbastanza Gli oggetti Facciamoci prima Qua Non può essere lì Aspetta Cazzo Che danno stupio Ok no Speravo facesse qualcosa di più figo Ma effettivamente no Quello l'abbiamo già fatto Ma la bomba chiede Fa danno Si Non solo fa danno Appara i colpi E spacca le rocce Ah E' utilissimo Quindi per le rocce tinte Non hai bisogno di Esatto Oltretutto c'hai i rocce Le vede le rocce tinte Aspetta Ma Tami Sad Fa quello che penso Porca puttana Ok questa E' da fare in velocità Adesso Sì è fortissima Questa Che sta fia qua Strand Ce la portiamo Per un eventuale patto Possiamo Andiamo Sì Mi sta allaggando il gioco Però è più Ok adesso possiamo portare Due robbe Due consumabili Necropolis 2 Fatto Fatto Cosa ha fatto? No ha detto È morto Ventriculose veins Anche sì Non ho più chiavi Bene Piece of diamond Questa non posso aprirla Devo andare da Satana Quindi è uguale Prendo Prendo Ipecac Adesso il nostro danno è 71 Ok Adesso hai tamizette E Viene varie cose Che fanno la stessa cosa Sì Ma una la fa Quando prendo danno Il grosso problema Semmai Ecco appunto È non riuscire più a caricare Perché ho 75 Di delay Non ho capito Perché ogni tanto Sparo la pallina Eh ma non dovrei spararla Perché sì Perché è come Continuarsi a sparare Quando hai Così Sì no Mi sta benissimo Vai a fare un culo Sono morto Ma Uncora Uncora Incredibile Cazzo Uncora Chi è Tu non muori Di che lì Non ho In Uncora 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 ok si può scendiamo quantomeno boss rush ha fatto il punteggio della boss rush ce lo siamo preso qui io non posso cazzo io qua non posso prendere danni praticamente mai porca puttana che coglione praticamente mai beh avendo un cuore eh si full health ma che sto facendo non può esserli ok abbiamo la chiave il problema qual è? è che non riusciremo a farla quella stanza ho preso troppo danno e a boss rush troppo proprio ipecac non andava preso vabbè però qua ci sono un sacco di un sacco di robe e sbrilluccicose un sacco di tinted rock oh che dobbiamo fare? lo prendi ok puoi rimanere senza humbling bundle senza chiavi con humbling bundle è imbarazzante però hai 27 bombe eh beh allora vabbè il fatto è che faccio un boato di danno un boato proprio fa 71 71 ma tamishead fa molto di più e tamishead lo moltiplichi per 10 ok scendiamo è anche troppo rischioso sto è bello ascoltare il proprio raccine ma se ho già trovato il boss ok non mi serve questo mi sta bene andiamo di qua questi cazzi dai ho file server dammi qualcosa oh bimbo ipecac che dobbiamo fa' oh ci sono in tutte le stanze cioè in tutti i piani mamma stava abbracciando una caccaviola fortissima sempre i nemici più innocui quelli che non si muovono e le cacchie no quelli che non fanno nulla e quelli che non si muovono che danno le cacchie le quarter mi può star bene ho fatto un cazzo di casino lui fa sentire utile tutti quei nemici che altrimenti sarebbero dimenticati esatto di emperor certo che diventare gappi non è che mi sarebbe proprio dispiaciutissimo della serie nessuno viene abbandonato o dimenticato rosco io vengo costantemente abbandonata non è vero ma da chi ma da chi se non hai nessuno in effettivamente hai ragione dovrebbe essere ci qualcuno cui frega qualcosa cratina non è bambino può sì addirittura una tinted rock e un mercato e una vediamo solo soldi vabbè soldi meglio che niente la palla impazzisce qui sotto perfetto è meglio ok boss it leaves scelgo te sei morto bene avvallo questo era abbastanza inutile e quindi facciamo dei dash sapendo che morire chissà quanto toglie dash poco io non so se hanno fixato l'hourglass quasi quasi l'attento mi ricordo in quale video non recente o quello di ieri o quello di l'altro ieri o l'hai dimenticato o proprio per scelta non l'hai non l'hai preso era un altro di ieri che cosa l'ho preso l'ho preso 2020 si mostrava uno dei miei oggetti preferiti cioè non è che non l'hai preso c'era un hai comprato un oggetto allo shop si è restoccato con 2020 però magari non l'hai visto ah può essere prendo the common cold non vedo infamacy infamacy di empress si ok diciamo che meglio di così da hash non ci possiamo arrivare ah il danno è anche interessante il problema è che spariamo di merda e con hash la cosa importante è la fire rate che non abbiamo punto ah ma alla fine non l'hai portato la testa di eh no ma tanto c'ho ventricular race quindi ventricular svein non dico come cazzo si chiama l'orico svein oh grazie infami a parte che ho 4 di luck infami adesso non scala con l'h però no no ieri ho fatto controllare ma l'ho detto io no cioè mi hanno detto che non c'è scritto se niente quando non c'è scritto perché non scala facciamo un culo di danno cioè facciamo tipo il 2-3% a raggio di brinston il problema è che a raggio di brinston la devi faricare eh sì quello è un grosso problema cazzo quanto io ho levato veramente troppo faccio prima fame di colpì cioè io ho levato metà vita un colpo un cazzo di colpo aspetta un attimo ma il danno da veleno lo prende anche se è giù quanto fare sì no ok di danno ne facciamo sì sì il danno da veleno lo prende anche quando è giù non tantissimo morto e giustamente mi ha aperto anche delirium che francamente io farei però però ho bisogno di tamishead per fare quel piano per non rischiarmela troppo ma vedi che qua entra bene cioè non devo entrare di lato com'è che the void si no c'è una diatriba sul entra di lato nel mio canale si però ha funzionato mettetela come pare è bellissimo l'animazione che viene il tipo di super bello non so quanti cuori hai sì ne ho quattro ne ho quattro e spero di non prendere danno perché prendo danno è colpa mia grazie infami il problema contro delirium è che io vorrei avere tipo cazzo questa l'ho presa proprio io di danno stupido proprio però ho riguadagnato un cuore quindi dovrei essere a quattro cuori e mezzo se i conti sono corretti così ok abbiamo una quantità di cuori infinita per terra però sono tutti rossi però sono tutti rossi sì eh magari Bob's Brain no credo non esistano i cuori di fede doppia one make you small va bene cuore blu e cazzo ma dammelo un oggetto vabbè che mi hai già dato tutte le cose più forti che c'erano sono che lui è contro le pillole Steven adesso abbiamo 74 eh ma perché fino adesso non erano male quindi ho immaginato che la run fosse pensata per fare delirium in realtà ok allora in teoria a parte quando ci salta addosso delirium siamo quasi immortali perché siamo più piccoli della palla se ne trovi un'altra eh ma l'hitbox bisogna capire bisogna va capita la cosa dell'hitbox purtroppo guardiamo che si sta al centro power pills ok buono sapere che esiste iera iera lo useremo in una stanza dove ci sono i cuori poi ci penso ok altro boss sono grande e il tiro da tre va a segno attualmente non stiamo colpendo cioè non stiamo facendo nessun boss ma è quello che voglio al momento vediamo prima il posizionamento del boss per decidiamo secondo noi dov'è delirium facciamo così pinna scolex pinna mi sta bene qui cerchiamo solo di capire qual è il boss che esplode guarda questo è tosto ok no me ne manca uno so sicuro ma non so dov'è è che vorrei provare a doppiarli fuori si no quello l'ho lisciato proprio l'ho preso prima di accorgermene allora chi manca dovrei anche spaccare effettivamente qualche qualche cranio dice bob's brain tipo queste teste ogni tanto droppano ho famigli oltretutto famiglie che parano il culo un cuore eterno ok o a volte addirittura fanno di meglio cazzo ho preso danno ok questa potrebbe essere un'ottima stanza per gli era o anche no invece si ma vaffanculo ok sono full hp wow sacco of bomb ok cazzo brutta stanza chi è rimasto? tu? si voglio quello hp no assolutamente voglio qualcosa no perché non so che è ma è quello che ti trasforma il personaggio quello mi ricordo aspetta non mi ricordo che fa no quello è proprio un telecomando no non è un telecomando sembra tipo un cellulare no quello che ti cambia il personaggio è un telecomando eh anche quello sembrava un telecomando quello è pokemon go quello dei pokemon ok non mi ricordo cosa fa hai spawnato un pokemon in un istante in teoria c'è una possibilità che uno dei mob sia friendly una roba simile quando per chiare quella confusione in piume che faccio cazzo se omen bomb anche si che non ci dispiua affatto certo se trovassi sad bomb con 66 bombe penso di demolirlo abbastanza più è trovarlo più è trovarlo alla fine non l'hai preso no ci faccio death touch ok abbiamo 77 di danno se diventiamo gappi adesso viene disintegrato hai presente disintegrato disintegrato perché le mosche farebbero 150 di danno ma guarda va bene anche la parrucca di mamma ma sei sicuro di essere ad hp pieni? si stai scherzando stai lagando io? stai lagando lui presumo eh eh non è per essi il prego non mi pare faccio un f5 inserite non vorrei dirti ma avevi 32 di ping e ora? ora 24 non ho ne testa a 3 è vero che ho 700 cose aperte aspetta un attimo 24 millisecondi almeno 52 cosa? com'è adesso? 30 no aspetta dagli un secondo 21 20 21 26 26 ma perché sento la ventola che che ha le sue? adesso ha 36,05 37 40 adesso più o meno 70 c'è qualcosa che non va no però non sto che è proprio tipo che ne so i router che non ce l'ho qua il wifi del router oh mio dio ho meno ping di term maddo potrei fare un casino aspetta 18 no però perdo il 2% dei pacchetti in realtà quindi non è non è male per essere in wifi sta uploadando anche basso a 2 meg e mezzo più o meno no sei tornato a 4 perfetto no no era qualcosa boh non so c'è forget me now però perderei perderei mi sed però potrei diventare gap non lo so che dite forget me now non ne ho idea io non so mica se come eh boh ecco adesso ho preso un danno cazzo non ci sono cuori blu in giro sì ci sono lontanissima ci sono lontanerimi adesso quanto sono piccolo da 1 a piccolo buonissimo no ho preso anche mini mash era qua il cuore sì sei quanto una mosca in teoria se sto sopra la palla non ti dovrebbe colpire nessuna lacrima beh sì in realtà lui mi salta addosso quindi sì però al momento in cui mi salta addosso mi parte da mised quindi ok aspetta quanti colpi lì ti fa un cuore intero sì anche se c'è inton c'era una raccia belluncicosa come tanto non becca il colpo no in realtà non c'era una raccia belluncicosa credo fosse no erano i resti che era una raccia i resti no eh vabbè andiamo direttamente ok è rimasto solo delirium da combattere quindi ma quello di prima chi è? adesso non è riuscito a non come ha fatto a farmi danno? non gli faccio un cazzo a delirium ops no non gli faccio niente non lo colpisco proprio neanche con Tammis neanche con Ventricular come no? no oh io ho fatto zero danni con Ventricular addosso a lui mi ha colpito nel momento in cui no vabbè sì qualcosa gli ho fatto poco non puoi farmi danno prima di comparire sta cosa guarda ti giuro le madonne vedi che mi compare addosso vedi ho preso troppi danni a voi sta laggando? un po' non più no sto prendendo i danni dai ragni cioè è tutto a dire ma perché alcune forme sono grigio scure? non lo so io continuo a prendere danni prima che lui si teleporti però a me non mi sembra molto giusta la cosa però no 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 non si può fare così sei una merda sei un uomo di merda ma ci ha messo che tu sia un uomo oltretutto morto ma guarda che cazzo aspetta sono Lazzaro eh ma Lazzaro non c'è neanche il bristo perché ho preso Lazzaro Sorate ma certo ok adesso sono morto sono comunque sei centesimo al mondo wow membrense ma guarda che cazzo